Il West era un luogo di frontiera e di uomini duri, ma solo prima che arrivasse lei. Michaela Quinn, il nuovo dottore. Una donna medico. Allora, è capace o no? Anzi. Nessuno ha mai sentito di un dottore donna qui. Una vera signora. C'è una prima volta per ogni cosa. Jane Seymour, la signora del West. Lunedì alle 13, Rete 4.